Allora, cosa ho preso da tennis Primark in realtà? Allora, in totale ho speso 35 euro, due bustoni. Vediamo cosa ho comprato. Ho preso un paio di stivali. Ascoltate perché questi mi hanno regalato le bocette. Un paio di stivali, marroni, semplici, stacco basso. E questi sono costati solamente 9 euro. 9 euro. Poi, cos'altro? Ho preso una candela sempre in saldo, che costava 4 euro, invece l'ho pagata solo 2 euro. Ed è profumatissima, bellissima. Una scatolina, anziché 2,50 euro l'ho pagata, 1,90 euro. Sono 4 smalti. Nero multicolor, un bianco perla, un rosso brillantinato e un viola brillantinato. Questa confezione, anziché pagava 2,50 euro, l'ho pagata solamente 1,90 euro. E sono molto pratici questi smalti perché durano tantissimo. e sono molto belli da cambiare. Quindi questo... Quanti c'è? Quanti c'è? Quanti c'è? Poi ancora ho preso... Ho preso un paio di ciabattine con la pelliccia, queste ciabattine per la casa, che costavano 4 euro. L'ho pagato solamente 2 euro. Cos'altro ho comprato? Ho comprato una cinturina 1 euro. Faccio ancora... Cos'è? Cos'è? Color rosa antico beige. Corso antico beige. E questo l'ho pagata solamente 1 euro anziché 3 euro. Poi ho preso un cappellino, anche questo 1 euro, con la panellina e il pompon grigio. Anziché 3 euro l'ho pagato 1 euro. Poi ho preso ancora un anello, anziché 3 euro l'ho pagato 1 euro. Ho preso un po' di anelli color dorato e rosso, non lo so, dorato un po' che va nel rosa. Anziché 3 euro, sempre 1 euro. Sono 2. Poi ho preso questi orecchini, dorato e rosso antico, anziché 3 euro li ho pagati 1 euro. Poi ho preso un charms, anche questo 1 euro. Anziché 1,50 euro. E' un maialino. Maialino tutto glitterato. Poi ho preso 2,50 euro. Una canotta semplicissima, ma questa in pratica si indossa sotto tutto, sia per l'estate sia per l'inverno. Ho preso delle mutandine carinissime, sempre 1 euro anziché 2 euro. Sono simpaticissime. dietro c'ho questo dettaglio, senza vedere, sono trasparente, molto, 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 molto bello. E poi un'altra campanina semplice. Compre 1 euro. Che è tutta qua. Un fiocchetto blu. Le rifiniture sono blu. Grigio blu. Ok, questi sono i miei acquisti di oggi. Sempre per il mio compleanno, ovviamente, mi sono fatta un bel regalo. Ah, aspetti, aspettate, ho comprato anche una giacca. Ho anche una giacca. Che anziché 35 euro, ho pagato solamente 10 euro. Ed è carissima, perché non è molto pesante. Quindi, per i periodi, un po' a mezzitenti. Adesso l'inverno. Un po' traportato. Intermeabile, ovviamente, perché qui piove in continuazione. Si imprimina. Cappuccio. Pellicciotto rimovibile. Che però, non è per... Io lascio. Per tutto questo, ovviamente, 1,85 euro in totale. Ok. Questi sono i miei acquisti. Tutto qua. Alla prossima uscita shopping. Grazie.